Non è una novità che ad Agropoli una delle maggiori mancanze, la quasi inesistenza di spazi verdi curati e di attrattive per i bambini e le lamentele degli agropolesi su questo non sono mai mancate. Nonostante negli anni si siano susseguite una serie di progetti per migliorare Agropoli dal punto di vista degli spazi verdi, fra i più recenti il parco urbano di Trentova e la rete di piccoli parchi proposta dai 5 stelle agropolesi, non si è mai provveduto a risolvere questa situazione che vede la città in netta carenza di verde, dati 4 metri quadrati per abitante contro i 9 previsti per legge e in carenza di attrattive per i più piccoli. Sui social le lamentele dei genitori dei bambini agropolesi sono numerose, ad Agropoli mancano attrattive spazi per i bambini, non ci sono spazi per poter giocare la strada ormai non è più esattamente un posto tranquillo e sicuro, un bel parco curato e attrezzato sarebbe una grande cosa. Queste sono le critiche di alcuni cittadini agropolesi che ora attendono l'intervento da parte dell'amministrazione comunale, nonostante l'annuncio degli scorsi mesi di un progetto di riqualificazione del parco Liborio Bonifacio, ma di cui al momento non si vede traccia.